Radio Ascoli Radio Ascoli Adesso sono spudorata però all'età di 7 anni quando io ho cominciato io non riuscivo neanche a parlare con mio padre e mia madre per cui questa attrice regista che abitava sotto casa mia in Toscana che è una delle poche arlecchine donna presenti sul territorio nazionale decisa di aprire questa compagnia dei piccoli di fondare questa compagnia dei piccoli nella provincia di Pistoia e cominciamo a fare questi spettacoli e io la prima volta che sono salita su un palcoscenico mi sono resa conto che era il posto in quel momento dove io stavo meglio cioè era il mio acquario era il luogo dove io potevo essere e fare e dire tutto quello che volevo ero autorizzata e poi da lì è cominciato primo è stato un hobby poi mi sono resa conto che quello che facevo mi piaceva ed è diventato un hobby ma un hobby molto presente nella mia vita tanto che mi ha seguito per tutta l'esistenza fino a quando non ho deciso proprio che diventasse la mia professione ovviamente un percorso nato in tenerissima età come appunto raccontava Cristiana ma che è stato anche costellato di tanta formazione e tanti sacrifici chi sono le persone che più ti hanno segnato in questo percorso anche proprio di formazione professionale? allora inizialmente questa Arlecchino Donna che mi ha insegnato il teatro penso nella maniera migliore perché quando sei bambino assorbi in un modo e esprimi in un modo che quando sei più grande non ce l'hai quel modo lì per cui diciamo è come quando impari una lingua io ho imparato a certe tecniche teatrali quando ero piccola quindi quella la prima poi mi sono trasferita a parte le varie esperienze fatte in compagnia in Toscana a Firenze quando frequentavo l'università che era un ambiente estremamente frizzante a livello teatrale e ricordiamoci che quello era il periodo in cui sono usciti Gian Cattivi in cui c'era Benigni che andava in giro per i bar di Prato a declamare la Divina Commedia quindi insomma era un ambiente molto brillante a livello culturale molto formativo poi mi sono trasferita e la mia esigenza era ricercare quella frizzantezza e quella brillantezza e l'ho trovata a Teramo con Silvio Araclio ad Ascoli con Tonino Simonetti con Gigi Ottoni che veniva a fare degli stage però chi mi ha aperto poi in età matura diciamo così tante finestre mentali sul mondo teatrale è stato Antonio Fava con la sua scuola internazionale per l'attore comico dove per quasi un anno io ho pensato e lavorato solo ed esclusivamente ho vissuto in funzione della mia vita sul palcoscenico quindi otto ore di improvvisazioni, tango, arti marziali, ginnastica a corpo libero, canovacci da studiare, da scrivere è stato un anno veramente che secondo me tutti dovrebbero fare di grande formazione, dicevamo studio, preparazione tra rinunce, sacrifici ovviamente e voglio chiederti a cosa hai dovuto rinunciare per realizzare questo tuo grande sogno? ho dovuto rinunciare a diciamo così una mentalità convenzionale nel senso ho dovuto rinunciare a quelle sicurezze che una donna della mia età a 30 anni cerca quindi un lavoro fisso, un introito fisso, anche una vita familiare più convenzionale la mia vita è una vita da zingari fondamentalmente e mi piace, sia ben chiaro, me la sono scelta però mi sono resa conto soprattutto durante la pandemia, soprattutto durante il lockdown che ero estremamente su un equilibrio instabile ed è stata proprio la pandemia invece a me che mi ha aperto altre strade altre strade e altre opportunità le opportunità, cioè dietro ogni, ma questo me l'ha insegnato la vita, dietro ogni esperienza negativa, dietro ogni problema c'è una soluzione ma non solo, c'è un'opportunità di crescita che è quello che ci ha insegnato il terreno tra ogni difficoltà ovviamente un'opportunità, come dicevi tu il teatro affrontato il covid sono stati anni difficilissimi, l'abbiamo raccontato spesso ai microfoni di Radio Ascoli compagnie teatrali letteralmente bloccate, spettacoli con l'accesso al pubblico assolutamente senza possibilità poi compagnie teatrali, attori a Cristiana che si sono inventati anche lo streaming per comunque mantenere questo collegamento con il proprio pubblico un teatro che è riuscito a reinventarsi e tu diciamo hai il grande pregio, io questo lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo e tu lo sai di portare, di essere riuscita a portare il teatro fuori da quelli che sono i luoghi deputati con tutto il rispetto che ovviamente ha il teatro, ed Ascoli ce ne sono davvero di meravigliose come in tutto il nostro paese, il teatro ha una grandissima storia consolidata in Italia e di questo siamo orgogliosi, però tu hai portato il teatro fuori da quello che è il luogo deputato quindi le quinte, il palco, addirittura a domicilio, una nuova sfida per te, raccontaci come nasce questa idea l'idea in realtà c'è sempre stata, perché se ci pensiamo gli attori, i giullari andavano nelle case o nei castelli a divertire il pubblico, quindi diciamo che c'è sempre stata questa idea di portare il teatro fuori dai teatri i picari che andavano in giro con i carretti e aprivano i loro carretti che diventavano dei palcoscenici itineranti dove loro si fermavano nelle piazze e recitavano, per cui insomma c'è sempre stata diciamo che questa idea del teatro a domicilio è perché molti prima di tutto non hanno la possibilità di muoversi e ce l'ha insegnato la pandemia, la pandemia ha fatto sì che il teatro uscisse proprio dal teatro e andasse per le strade e non solo in streaming, infatti è nata proprio in questo periodo durante la pandemia questa idea di fare il teatro in casa questa gente che apre, pensiamo al FOF, al FOF alle prime edizioni, il festival Uffidano dove all'inizio, proprio ai primi anni di questo festival, le persone aprivano la loro casa e gli artisti entravano dentro, maghi, attori, comici e dentro il salotto di queste case dove non si sa se erano più felici chi ospitava l'artista o l'artista che veniva ospitato perché appunto è molto bello il teatro a domicilio perché si crea proprio un rapporto strettissimo e immediato con il pubblico cioè è vero che tu in teatro lo senti il pubblico però nel teatro a domicilio lo senti ancora di più, è lì, è lì vicino, respira con te e quindi c'è un rapporto diretto insomma in sinergia invece parliamo adesso dello spettacolo che ti vedrà protagonista, tu sei molto emozionata tra l'altro è un testo di cui a Radio Ascola abbiamo parlato moltissimo ricordando anche il ruolo che ha avuto Alfredo Barbizzi nella tua vita un pensiero per raccontare questo grande artista che in un momento drammatico di grandi difficoltà nella propria vita però ha saputo anche raccontare proprio questa storia grottesca di un paziente qualunque che tu adesso porti a Milano raccontaci come nasce questo testo e anche un po' del tuo rapporto con Alfredo certo, allora io e Alfredo abbiamo collaborato per molti anni anche ad altri spettacoli in sinergia con artisti, ballerini, musicisti, pittori perché lui era oltre che un terapeuta era anche un pittore ballerino e era uno scrittore, era una persona poliedrica quindi ci conoscevamo a livello professionale perché avevamo portato degli spettacoli in giro sta di fatto che lui si ammala a 40 anni di cancro arretto fa delle cose assurde perché lui era un amante della vita lui amava la vita per cui ha fatto di tutto nonostante gli avessero detto che aveva 6 mesi di vita lui ha seguito una serie di terapie anche innovative ed è riuscito a portarsi a questa malattia dietro per 3 anni e a sconfiggerla anche in certi momenti tanto che questo monologo per me è un'arma che lui ha usato nei confronti di questa malattia perché lui ha in una notte insomma ne ha scritto questo monologo di getto il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto ti devo leggere una cosa siamo andati alla libreria rinascita lui me lo ricordo ancora seduto che mi leggeva questo libro io ho pianto, ho riso, mi sono commossa, mi sono arrabbiata perché è un libello di pochissime pagine, si legge in mezz'ora però lui fa una narrazione ironica in alcuni momenti comica è una narrazione anche di denuncia verso un certo tipo di classe medica ma soprattutto è un testo comico in cui lui non solo prende in giro se stesso e un certo tipo di classe medica ma prende in giro anche la malattia e quindi quello che ne risulta è un grido comunque di gioia quasi vendicativo cioè nonostante tutto io esisto e questo libro ne è la prova e il fatto che noi abbiamo debuttato nel 2010 siamo nel 2024 io ancora questo spettacolo lo porto in giro me lo chiedono, non sono io a proporlo questa signora di Milano che fa appunto portiamo il teatro questa storia grottesca che sarà in scena a Milano nei prossimi giorni esatto, a Milano, Reggio Emilia e Bologna e poi andremo a Vasto quindi pensa quanto è vasto questo circuito questa signora mi ha chiamato perché ha voluto ha visto un video da qualche parte perché io comunque li pubblico e lei mi ha chiamato specificatamente perché vuole portare questo spettacolo nelle sue talee, lei li chiama perché la sede principale è Milano poi le talee sono le varie piazze tra Bologna, Reggio Emilia, Roma e Sud dislocate un po' in tutta Italia dove viene proposto questo teatro che appunto ha la firma questa volta di Cristiana Castelli ha la batteria acustica Fabio Dottavio inseparabile compagno di vita lo diciamo spesso che il teatro racconta la vita e la storia di Alfredo Barbizzi testimonia questo un vero in proprio alla vita quando purtroppo anche lui era in una fase insomma in cui la malattia era diventata cronica era quasi impossibile anche svolgere le attività quotidiane e tu porti questa eredità possiamo dire così che ti ha lasciato Alfredo allora dove sarai? Lo ricordiamo giovedì 6, venerdì 7 giugno piazza della Repubblica Milano poi il Laboratorio delle Eccellenze Italiane sabato 8 giugno ovviamente il nostro grandissimo in bocca al lupo poi ci racconterai quando tornerai ad Ascoli come è andata però voglio sapere adesso in chiusura riti scaramantici che fai prima di andare in scena c'è qualcosa? perché sappiamo che gli artisti e in particolare gli attori sono molto molto scaramantici c'è qualche gesto? o non si può dire perché magari non si può rivedere? allora ti dico io fino a una certa data ero molto scaramantica dopodiché mi è successo una cosa nella vita per cui ho capito che non mi serve la scaramanzia allora che cosa faccio io prima di entrare in scena? a parte riscaldare la voce come fa ballo come una matta mi metto la musica che mi prepara mio marito in cuffia per caricarmi mi metto dentro il mio camerino dico a tutti mezz'ora prima dell'andata in scena non voglio essere disturbata ma non perché perché mi vergogna a farmi vedere come mi riduco perché veramente ballo, canto mi carico, piango, rido cioè veramente cerco di riportare di svegliare in me tutte quelle emozioni che poi mi serve di riportare sul palcoscenico per cui a parte questo e il fatto che comunque è diciamo così anche bello farlo ci si tocca le chiappe ecco però con mio marito lo posso fare ci tocchiamo le chiappe prima di entrare in scena dunque Scaravanzia anche nel teatro di Cristiana Castelli lo ricordiamo che è una nostra grandissima amica protagonista anche di Parla che ti passa insomma una delle attrici che insomma non nascondiamo è tra le nostre favorite con la storia grottesca di un paziente colunque di Alfredo Barbizzi, Cristiana Castelli e Fabio Tottiavio protagonisti a Milano e torneremo a parlare di teatro anche nei prossimi appuntamenti intanto grazie per essere stata nostra ospite ma grazie a voi, grazie mille e ovviamente ricordiamoci che bisogna andare a teatro andiamoci a teatro ma dovunque esso si svolga non solo a teatro vive il teatro vive il teatro grazie grazie